Ciao a tutti stellini e stelline! Io sono Ginevra del canale Polvere di Stelle. Buone feste a tutti! Oggi vi faccio una storia con il camper delle roll che ho ricevuto per Natale! Quindi, a voi la storia! Partiamo! Oh, bene, sono proprio arrivata. Allora, chi è? Adesso scendo. Adesso scendo e adesso scendo. Bene, bene. Ok. Mmm, che bella è una casetta! Wow! Che bellissimo! Sempre verde! Siamo all'inverno e quello è ancora verde. Wow, che bello! Non sempre verde! E un po' pazza di neve! Vediamo! Oh, sta per sbocciare una farfalla! Sono esplosi gli insetti! È volata un'ape! Che bello! Wow, che carina è la cucina! Adesso vado a fare colazione. Con il mio biberon. Che buono! Wow, che belle le cheerleader all'attività! Sono proprio bellissime! Sono bravissime! Che bello questo posto! In video subito le mie amiche! Wow, c'è anche un passaggio per non bagnarsi! Che forza! Io intanto mi vado a truccare per fare bella figura con le mie amiche! Dimmi, quando arrivi, quando arrivi, rendo... Oddio! Mondo! Vabbè, mi tolgo il cerchietto, forse! Bene, adesso mi metto il rossetto. Rossetto azzurro. Ok. Vediamo? Mi sta benissimo! Poi... Adesso il far... Ok. Perfetto! A recuperare il trucco! Poi mettiamo l'ombretto azzurro. Perfetto! E ora mi metto il mio bellissimo fiocco. E mi vado a vedere allo specchio quando lo ho messo. Non sto avendo nessun problema. Ok. L'ho messo al contrario, però vabbè. È meraviglioso. Mi piace molto. Ok. Ora vado a farmi un tuffo in piscina. Wow! Che bello è quello di sopra! Muah! Ai! È vero! Devo toglierlo! Adesso mi sono ricordata! Ora faccio un bellissimo tuffo in piscina! Di testa! Woo! Cif, cif, cif! Wow! Si può anche sfilarli! Vabbè! Mi fio come le toglie! Non mi va più! Sono bellissime! Con questo vestito e questo trucco poi! Ma adesso come faccio a passare oltre la piscina? Wow! Avendo schiacciato un solo tasto, è uscita un passarella! Wow! Un frigorifero e un bagno! Che cosa buppa! Poi c'è anche la doccia! E il water! Ah! Sono cascata! Però vado a fare la pipì! Ma lasciatemi un attimo di privacy, ok? Ciao! Vieni, adesso chiamano i miei amiche! Tu! Tu! Ciao amiche! Volete venire da me per fare un barbecue stasera? Ok! Ciao! Che bello! Tra poco arriveranno! Ciao a tutte! Ragazze, ciao! Ciao le dindiva! Ciao piccolina! Ciao baby cutie! Ciao Ginny! Ciao vaccai baby! Ciao giving cat! Ciao strut! Ciao ragazzi! Adesso facciamo il barbecue che è pronto? Sì! Ok! Allora! Ci sono abbastanza piattini per tutti credo! Perché siamo... C'è? No sei! Sì! Allora! Sì! Ecco! Visto! Sono molto brava a ottenerlo! Oddio! Oddio! E poi una anche per i gattori! ragazzi vado a mettere sulla musica per ballare 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 bene adesso ragazzi andiamo a dormire ma noi andiamo a casa noi ciao ok andiamo ragazzi andiamo a dormire io salgo dall'uscita mi ha letto questo questa è la mia coperta eccomi qua io sono la più vicina al cielo stellato però comunque è bello anche se non sono vicina al cielo stellato io dormo con la ciao aiuto eccoci qui buonanotte ciao 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 a tutti ragazzi vi è piaciuta questa storia a Hope sicuramente è piaciuta molto vero figlio? vi è piaciuta la storia? siiii gattini ok ricordatevi di mettere il like di iscrivervi al canale e di commentare ciao un bacio all'esterno da me e ciao mia mia ciao perché ovviamente lui è una lol quindi deve passare dal pezzo dei pezzi ciao un bacio all'esterno un bacio all'esterno ciao ciao